La struttura tecnica dell'assessorato regionale allo sport ha individuato la soluzione per consentire la ripresa delle attività presso l'impianto Lenaia di Di Pescara, affidata per un anno al raggruppamento Centro Italia Nuoto e Sistemi Integrati per lo Sport, classificatosi al terzo posto nella gara del maggio 2019. Dunque il complesso di viale della riviera di Pescara potrebbe riaprire i battenti già dal prossimo mese di luglio. Ora la regione avrà il tempo necessario per effettuare le altre valutazioni inerenti anche la proposta di project financing pervenuta e comunque per decidere il futuro definitivo dell'impianto. Abbiamo assunto questa decisione, dice l'assessore allo sport Guido Liris, a tutela dei dipendenti e con l'obiettivo di riaprire la struttura nel breve periodo per tornare ad offrire un servizio pubblico importante all'utenza ed evitare che il centro sportivo possa perdere di valore. I nuovi gestori hanno accettato con orgoglio l'affidamento e si sono detti pronti a mettere in campo tutte le proprie forze per far sì che il centro sportivo possa tornare a splendere immediatamente nell'interesse dei cittadini e dei dipendenti. Le tappe e gli atti assunti dalla regione Abruzzo, governo Marsiglio, in merito all'Enaia di, testimoniano l'impegno della nostra amministrazione nel garantire la vitalità della struttura, ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. I responsabili dell'associazione temporanea di imprese hanno già preso in carico la struttura e stanno lavorando per garantire la riapertura al pubblico il più velocemente possibile, probabilmente già per il prossimo 10 luglio, iniziando dalla piscina esterna, ovviamente la più appetibile e richiesta visto il periodo estivo. Per altro lati si è anche impegnata ad attivare la clausola sociale e di salvaguardia del personale dipendente, in modo da tutelare tutti i posti di lavoro. Intanto però la petruziana Sporti Teramo, che in più di un'occasione aveva dato disponibilità a rilevare la gestione dell'impianto natatorio a proprie spese, ha annunciato il ricorso al TAR contro questa decisione assunta dalla regione Abruzzo.